C'è un umanesimo che non ha ancora trovato la sua esigenza completa, perché gli manca il significato cristiano, non dico del Vangelo, ma soltanto del comandamento, tu non uccidere, non ci sono delle eccezioni per un cristiano, voi direte che forse questa è un'espressione che nasce di una mia esigenza personale, consideratela come volete, ma io vi dico che domani, quando si chiarirà nel cuore degli uomini, al di sopra degli interessi degli uni e degli interessi degli altri, del blocco da una parte e del blocco da un'altra, non si può pensare che con un comandamento che regola la vita degli uomini, tu non uccidere, ci possa essere una giustificazione per massacrarci, il padre ci ha già condannato. Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto Don Bruno Bignami che sei direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali e del lavoro e soprattutto sei postulatore della causa di beatificazione di Don Primo Mazzolari, di cui abbiamo sentito in apertura un breve brano di un'omelia sul tu non uccidere, in cui diceva che non c'è nessuna giustificazione per uccidere, nessuna giustificazione per fare la guerra. Parole di attualità enorme, eppure 70 anni fa, perché furono scritte 70 anni fa, Mazzolari le scrisse in forma anonima, non poteva essere un prete a pubblicare un libro del genere, mi racconti la storia di questo libretto? Sì, più che non poteva essere un prete non poteva essere Don Primo Mazzolari a pubblicarlo, perché quel testo usciva da una serie di riflessioni che Mazzolari andava condividendo, anche con gruppi di giovani, persone che frequentavano l'ambiente della canonica di Bozzolo e che vedevano in Mazzolari un punto di riferimento. Sul tema della guerra Mazzolari aveva già riflettuto, però in quel momento particolare Mazzolari che si sapeva conduceva il quindicinale adesso, che era molto discusso come quindicinale nell'ambito cattolico, perché c'era chi lo leggeva, stravedeva per le sue posizioni di avanguardia e chi invece lo criticava fortemente. In quel momento Mazzolari che aveva già portato avanti il dialogo con i partigiani per la pace, si trova nella condizione di avere questo testo tra le mani, che scrive sostanzialmente ed è pronto per il 1952, quindi 70 anni fa esattamente, ma si trova nella condizione di non opportunità, sapeva che non sarebbe stato accolto, accettato, solo successivamente, tre anni dopo il libro esce, ma esce senza la firma di Mazzolari, pubblicato anonimo. In diversi ambienti si sapeva che la penna era quella di Mazzolari, ma quel testo solo dopo la morte di Don Primo riuscì ad essere firmato col nome di Don Primo Mazzolari. Don Primo è stato indicato da Papa Francesco come modello di parroco quando è andato nel 2017 proprio a Bozzolo a visitare la sua tomba, la sua parrocchia. Riascoltiamo le parole del Papa e poi torneremo a parlare di Tu non uccidere. Egli è stato giustamente definito il parroco dei lontani, perché lì ha sempre amati e cercati. Si è preoccupato non di definire a tavolino un metodo di apostolato valido per tutti e per sempre, ma di proporre il discernimento come via per interpretare l'animo di ogni uomo. Questo sguardo misericordioso ed evangelico sull'umanità lo ha portato a dare valore anche alla necessaria gradualità. Il prete non è uno che esige la perfezione, ma che aiuta ciascuno a dare il meglio. Alla carità pastorale di Don Primo si aprivano diversi orizzonti nelle complesse situazioni che ha dovuto affrontare. Le guerre, i totalitarismi, gli scontri fraticidi, la fatica della democrazia in gestazione, la miseria della sua gente. La gradualità del pastore di cui parla Papa Francesco è anche la gradualità dell'uomo Primo Mazzolari, perché sappiamo che parte da posizioni diverse. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale Don Primo si arruola volontario e cappellano militare, favorevole all'intervento, all'ingresso dell'Italia. Ha un ruolo anche nella lotta partigiana. Che cosa cambia? Perché nel 52 scrive un testo così perentorio come Tu non uccidere e pronuncia omelie come quelle che abbiamo sentito? Per una figura come Don Primo Mazzolari potremmo sintetizzare con uno slogan il travaglio della coscienza. Questa è la sintesi del suo percorso biografico. Mazzolari ha vissuto un'epoca in cui si è trovato da una parte con un bagaglio che era il bagaglio di formazione della Chiesa, anche teologico, anche spirituale, e che aveva sul tema della guerra, per esempio il concetto di guerra giusta come elemento cardine. Era giustificabile la guerra in certe condizioni, con tutta una serie di attenzioni che dal punto di vista teologico all'epoca si proponevano. Mazzolari vive la guerra dal di dentro, già nella Prima Guerra Mondiale, prima come prete e soldato, poi come cappellano militare. Questa esperienza lo mette a confronto con la dura realtà della guerra e soprattutto con la disumanità della guerra. Quindi Mazzolari rimane meravigliato e della contraddizione fortissima tra il Vangelo che deve predicare ai militari e l'esperienza quotidiana. Per esempio la fraternità e il fatto che Cristo dia la sua vita per tutti e dall'altra parte la vita militare che si fonda sul concetto di nemico. Per lui c'è uno stridore enorme e da lì c'è tutto un ripensamento interiore, una maturazione della differenza tra quello che era l'insegnamento che aveva ricevuto e quello che sarebbe stato poi la sua riflessione. Per cui il suo orientamento è quello di rivedere continuamente la vita, la storia alla luce del Vangelo. Ed è il Vangelo il cuore del messaggio di Mazzolari ed è per questo che sostanzialmente c'è tutto quel lavoro appunto della causa di beatificazione perché quello che meraviglia è proprio questa centralità del Vangelo. È Gesù Cristo il cuore del suo messaggio. A partire da quello una revisione delle scelte fino alla proposta alla luce delle due guerre mondiali del tu non uccidere. Cioè la guerra così come oggi è proposta, cioè una guerra che è assolutamente distruttiva e sproporzionata con armi nucleari, non corrisponde più al concetto di guerra che era stato elaborato nell'Alto Medioevo con guerre che erano con le spade. È cambiato completamente il mondo. È cambiata la tecnologia della guerra, è cambiato il modello di guerra e Mazzolari si rende conto che tutto questo deve avere una riflessione nuova. Per quello che la riflessione di Mazzolari ci meraviglia però è dentro un esercizio continuo di confronto tra la realtà e il Vangelo. E qual è il punto di arrivo di questo travaglio della coscienza? E soprattutto questo punto coincide con quella che è oggi il Magistero di Pace, la dottrina sulla guerra della Chiesa Cattolica? Tra l'altro oggi Papa Francesco, lo dico, ha incontrato gli ambasciatori di Pakistan, Emirati Arabi, Burundi e Qatar e ha invitato appunto a essere vigili nel no alla guerra dovunque, a prescindere dalla geografia, non soltanto quando ci arriva in casa in Europa come oggi. Beh, ci sono alcuni elementi che tornano oggi, almeno nel Magistero, non solo di Papa Francesco, ma possiamo dire dal Concilio Vaticano II in poi. Gaudium e Spes, forse anche Pacem in Terris, già possiamo dire andava in questa direzione e erano gli anni del Concilio. Mazzolari intuisce che c'è bisogno di una novità di riflessione e lui pone alcune questioni grandi. Il primo è il fermare la corsa agli armamenti. Cioè Mazzolari si rende conto che la corsa agli armamenti avrebbe creato le condizioni per fare la guerra. Il civis pacem parabellum antico, per lui già nel tu non uccidere deve trasformarsi in civis pacem parapace. Se vuoi la pace prepara la pace e non la guerra. E questo è un primo elemento, cioè mettersi nelle condizioni di armarsi e di armarsi sempre di più, significa creare i presupposti perché poi quelle armi si possano usare. Fermiamoci su questo primo punto, perché è un punto ripreso più volte da Papa Francesco che tante volte si è domandato delle responsabilità, si è inchiodato i venditori di armi alle loro responsabilità nella guerra. L'ho fatto anche il 7 ottobre dello scorso anno in uno di quegli incontri che hanno dato continuità a quello storico di Assisi dell'ottobre 1986. Sentiamo Francesco. E' la guerra a prendersi gioco della vita umana. E' la violenza, e' il tragico, sempre prolifico commercio delle armi che si muove spesso nell'ombra, alimentato da fiumi di denaro sotterranei. Voglio ribadire che la guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una ressa vergognosa, una sconfitta di fronte alla forza del male. Dobbiamo smettere di accettarla con lo sguardo distaccato della cronaca e sforzarsi di vederla con gli occhi dei popoli. Vorrei dunque esprimere nuovamente l'esortazione che fece ad Abu Dhabi sul compito non più rimandabile che spetta la religione in questo delicato frangente storico. Smilitarizzare il cuore dell'uomo. Smilitarizzare il cuore dell'uomo. E' nostra... E' nostra responsabilità, cari fratelli e sorelle credenti, aiutare a stirpare dal cuore dell'odio e condannare ogni forma di violenza. Con parole chiare incoraggiamo a questo, ad erborre le armi, a ridurre le spesse militare per provvedere ai bisogni umanitari, a convertire gli strumenti di morte in strumenti di vita. Meno armi e più cibo. Meno ipocrisia e più trasparenza. Più vaccini distribuiti equamente e meno fucili venduti sprovedutamente. Credo che in questo breve frammento di discorso del Papa ci siano un po' tutti e tre gli elementi di coincidenza. Il primo lo dicevi tu, insomma, quello del non... che la pace non si realizza con le armi in mano, ingigantento i propri arsenali, con quella che una volta si chiamava la logica di deterrenza. Eh sì, la corsa agli armamenti sicuramente è uno degli elementi drammatici. Tornati di attualità, peraltro. Esattamente, anche con tutti gli investimenti che si fanno sulla guerra e sulle armi. Gli altri due elementi interessanti sono il fatto che Mazzolari si rende conto che con la guerra... e la guerra è alimentata da un concetto del nemico come colui che va demolito, come colui che va assolutamente annientato. E questa non è una visione cristiana delle cose della vita. e il terzo elemento è che la guerra la pagano i poveri. Sostanzialmente le conseguenze della guerra, e lo vediamo in ogni realtà di guerra, sono i più poveri quelli che pagano direttamente le conseguenze perché sono costretti a lasciare i loro territori, perché sono costretti a vedere distrutte le fatiche di una vita, perché sono costretti a separazioni drammatiche e soprattutto, in diversi casi, i padri a seppellire i figli. Normalmente nella vita dovrebbe essere il contrario. E quindi questo è il dramma di una guerra che continuamente alimenta morte, alimenta tragedie, alimenta disumanità. E c'è anche il tema, l'abbiamo sentito peraltro, nel brano di Omelia di Mazzolari, dell'oltraggio a Dio, della bestemmia che è la guerra. Certo, questo è un tema caro a Mazzolari, perché una delle sue riflessioni importanti è proprio quella della paternità di Dio. La misericordia paterna di Dio sull'umanità è data dal fatto che Dio continuamente spende la sua parola e il suo figlio per condividere fino in fondo la nostra umanità e per mostrarci qual è l'orizzonte di vita autentica, cioè quello di fare di sé un dono. E non quello di eliminare l'altro. Quindi Mazzolari, ricependo tutta la sua riflessione evangelica, arriva a dire come la guerra è anche, usa un'espressione presente in tu non uccidere, è un deicidio, cioè è l'uccisione di Dio che è in noi, perché dentro ogni persona c'è l'immagine di Dio. Che è creatore e non distruttore. Esatto. Senti, c'è quel passaggio molto bello, che credo pure ci rimandi in qualche modo al pensiero di Mazzolari, questa espressione di smilitalizzare il cuore dell'uomo, cioè che la pace passa attraverso il cuore, attraverso la coscienza. Assolutamente. Per Mazzolari questo è il cardine della sua riflessione. La pace parte da una conversione dei cuori, dalla capacità di riconoscere nell'altro un fratello e non un nemico da distruggere, e nella capacità di costruire ponti di dialogo, di attenzione nei confronti dell'altro. Questo è l'orizzonte. Sapendo però, e questo è interessante, che tutto ciò comporta un carico di annessione su di sé, quella che noi definiremmo oggi la croce. Mazzolari ha un'espressione molto interessante nel Tu non uccidere. Dice che il cristiano è un uomo di pace, non un uomo in pace. Cioè il cristiano è un uomo che vive l'inquietudine, che porta su di sé la costruzione della pace. Ecco, la pace non è qualcosa che si improvvisa. La pace va costruita giorno per giorno. Ci vuole più coraggio a fare la pace che a fare la guerra, ha detto Papa Francesco. Esatto, e questo è l'orizzonte. Però servono persone che si prendono cura e prendono carico di questo grande impegno del costruire la pace, che non è una cosa scontata. Senti, ma perché fece scandalo questo libro? E questo libro fece scandalo perché contestava un po' intanto una visione teologica che normalmente era ritenuta condivisa, cioè quello del fatto che andava difeso comunque l'idea di una guerra giusta. Secondo luogo, questo libro faceva scandalo perché quel tema, il tema della pace in quegli anni, era un tema molto delicato, perché soprattutto dopo la condanna del comunismo nel 1949 ci fu tutta una attenzione particolare su questo tema perché era uno dei temi su cui il mondo della sinistra stava facendo delle proposte, per esempio la messa al bando della bomba atomica. Mazzolari si rendeva conto che su certi temi i cattolici dovessero essere molto più avanti degli altri e però in quegli anni qualsiasi presa di posizione... Insomma ti faceva ruolare in uno schieramento Il rischio era quello di arruolare Mazzolari dentro una prospettiva politica. La domanda è, oggi secondo te, per noi cristiani e quella che si combatte in Ucraina ai noi è anche una guerra tra popoli cristiani, è ancora scandaloso oggi quel libro scritto 70 anni fa? Questo rappresenta, quel libro rappresenta secondo me un punto di riferimento anche per la riflessione in questi giorni. Noi abbiamo bisogno davanti allo scandalo della guerra soprattutto e ancora di più tra cristiani ma comunque tra persone, tra uomini davanti allo scandalo della guerra abbiamo bisogno di un di più, di un qualcosa diverso. Del resto lo vediamo, cioè anche la guerra attuale paradossalmente vediamo nelle scene televisive gli uomini sono in guerra e le donne si prendono cura di chi è fragile, cioè dei bambini e degli anziani. Abbiamo bisogno invece di una cura, e qui il tema tutto di laudato sì del Magistero recente, di una cura che diventi atteggiamento di tutti nei confronti della vita. E anche di questo ha parlato Papa Francesco, insomma di questa cura integrale, che è poi il tema della laudato sì. Ha parlato oggi pomeriggio Papa Francesco all'Università Urbaniana incontrando i ragazzi provenienti da diverse parti del mondo che appartengono all'esperienza di Scolas Occurrentes. E saluto collegata con noi proprio l'Università Urbaniana, Alessandra Graziosi, che è coordinatrice per l'Italia di Scolas Occurrentes. Allora, ciao Alessandra e benvenuta intanto. Salve, grazie. Allora, raccontaci che cosa è successo oggi nell'Aula Magna dell'Urbaniana, che avete raccontato a Papa Francesco, che cosa vi ha detto lui. C'erano anche ospiti importanti come il frontman degli U2. Bono. Esattamente. Abbiamo appena terminato questa giornata di celebrazione con Papa Francesco e abbiamo celebrato la prima giornata del grande percorso della scuola dell'audato sì. Infatti, Scolas Occurrentes, oggi, annunciata come movimento internazionale pontificio, ha proprio iniziato questo grande percorso della scuola dell'audato sì. Ed oggi, insieme, come ricordavi appunto, a Bonovox degli U2 e anche altri sportivi e atleti provenienti un po' da tutto il mondo, abbiamo proprio inaugurato e lanciato questa scuola dell'audato sì. E che cosa vi ha detto Papa Francesco? Ha parlato in spagnolo, noi l'abbiamo un po' capito, un po' no, raccontacelo tu. Sì, ha parlato in spagnolo, ha parlato a più di 50 ragazzi appunto provenienti da tutto il mondo, appartenenti alla scuola dell'audato sì e ha raccontato come prima lezione dell'audato sì proprio di prendersi cura della casa comune. Quindi l'importanza di prendersi cura della casa comune e l'importanza anche di vivere nella poesia. E quello che stavamo facendo appunto tutti quanti insieme, dalle istituzioni, agli ambasciatori, ai giovani, al nostro gruppo di scuola, era proprio quello, vivere nella poesia. I ragazzi hanno ballato alcuni insieme ai loro ambasciatori, abbiamo cantato, hanno suonato, ma soprattutto hanno urlato al Santo Padre i dolori delle loro terre, dei loro paesi. E Bonovox che domanda ha fatto a Papa Francesco e Francesco chi ha risposto? Sì, questo è stato un momento molto divertente in cui Bonovox con il suo inglese poi appunto tradotto al Santo Padre in spagnolo anche lui ha fatto proprio una domanda sulla casa comune, sul prendersi cura della casa comune, sul laudato sì, e Papa Francesco gli ha risposto dell'importanza di chiamare la terra madre terra. Senti, come va avanti adesso il lavoro di scuola soccorrente? Si è parlato di una fondazione pontificia, ma l'idea poi di fondo è di una rete che mette insieme tutte le scuole del mondo. Qual è il vostro prossimo obiettivo, più in generale, l'obiettivo della vostra iniziativa? Sì, l'obiettivo di scuola soccorrente in generale è promuovere la cultura dell'incontro, promuovere un nuovo modo di abitare la casa comune. Ecco, questo modo che raccontava Papa Francesco, nella poesia, nella dolcezza e nella bellezza della poesia. E proprio oggi, insieme a Papa Francesco, abbiamo lanciato dalla fondazione pontificia a Movimento Pontificio Internazionale di Scuola Soccorrente. E allora, buon movimento, buon cammino. Grazie davvero Alessandra. Grazie, grazie a voi. Grazie naturalmente anche a Don Bruno. Grazie. Appuntamento a domani, come sempre, alle 17.30. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi